Cinque persone sono state denunciate per truffa dalla polizia di Sant'Agata Militello. Nella loro rete erano finiti ignari compratori, beffati e derubati da venditori fantasma dopo acquisti portati a termine su internet. Due dei tre denunciati non sono nuovi a raggiri del genere. Oggetto delle false compravendite, telefoni cellulari e moto d'acqua usate, sottratti ad un utente anche i codici della carta post-pay. I sistemi utilizzati dai truffatori ricalcano i cliché ormai noti. Tra le vittime degli ultimi raggiri scoperti dagli agenti del commissariato Sant'Agatese, nel primo caso la vittima, abboccato su Facebook, avrebbe dovuto ricevere uno smartphone Samsung S4 per il quale ha pagato, trasferendo la somma su carta post-pay, 310 euro. Il telefonino era ben pubblicizzato su una vetrina virtuale con tanto di nome e grafica cattivanti. Nel secondo caso, l'oggetto del desiderio era una moto d'acqua usata in vendita sul portale subito.it a 2.700 euro. L'ignaro ed in cauto acquirente ha pagato e perso un anticipo di 1.000 euro. Differente è il terzo caso, la cui vittima è il titolare di una carta post-pay. I suoi codici d'accesso sono stati violati e utilizzati per scommettere online ed effettuare giocate a burraco, scopa, briscole e blackjack. Per quest'ultima truffa, parecchio diffusa, con un sistema immediato di riciclo del denaro sottratto attraverso fantomatiche partite con l'accordo tra vincitori e perdenti, sono state denunciate tre persone che avevano già sottratto e utilizzato 160 euro dal conto violato.